mamma ma quello è un gineceo? no 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 non è un gineceo quella è la parte esterna del coro delle monache perché questa era una chiesa benedettina e il gineceo invece è quella parte della casa che sin dall'epoca greca ma anche romana era riservata alle donne gineceo la parola desueta di oggi